sul canale tu sei arrivato a uno sguardo e poi completamente a sinistra tra l'editoria bella pulita, questo è segno di grande esperienza nonostante la giovane età eh sì, togliere qualche secondo in ogni curva è l'obiettivo l'obiettivo, curiosità da grande fratello, come ti alleni durante la settimana? la preparazione oltre alla moto, quante ore di moto, cosa convini? vado in settimana una volta in moto, poi il resto mangio mangi sicuro, insomma, ma non so, nuoto, palestra, scuola eh vado a scuola, basta, scuola fai? lo scientifico, ordinamento, tradizionale scuola impegnativa, insomma poi quest'anno sono in quinta, quindi devo studiare per forza studiare per forza e allora pubblico un applauso a queste fantastiche ragazze veramente complimenti continuano la loro avventura